ciao ragazzi siamo tornati per fare 15 minuti di braccia direttamente a letto di braccia seduti corpo libero super semplice volendo potresti abbinare anche le bottigliette d'acqua un elastico ma oggi la facciamo corpo libero perché perché magari tu sei un principiante si è appena arrivato a questa voglia di rimetterti in forma io ti sto stimolando no ti sei svegliata se ci sono a letto non mi posso scappare ai tempo e poi fare quelle che ti pare insomma e poi fare cinque minuti dieci minuti 15 minuti ma iniziamo subito allora primo movimento bello tranquillo mettiamo le mani insieme cominciamo a fare una pressione fino al centro delle nostre braccia provando di spingere attivare i pettorali vecchissimo movimento che scherzosamente usavano le nostre nonne per in inglese si diceva I must I must I must increased my bust the bigger the better the tighter the sweater the boys depend on us che era una fila strocca simpatico dicendo devo 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 assolutamente aumentare il mio il mio decolleté però la verità che quando andiamo a lavorare il nostro pettorale non aumentiamo il seno di per sé andiamo a tonificare il decolleté dove si vede queste belle striature di movimenti di muscoletti eleganti per quanto mi riguarda che mi aiutano a avere un decolleté più definita e ci aiuto anche con le grinze che possono formarsi quando la grinze che dopo una certa ovvero 9 45 50 60 cominciamo avere un po la pelle che cede così andiamo a riempire con i muscoli datemi ancora 8 datemi ancora 7 6 e 5 e 4 e 3 e 2 cambiamo il movimento le mani rimangono di fronte al nostro viso altezzo mento e chiude i gomiti quando chiude i gomiti gli provo di spingere i gomiti insieme e sentirai che proprio ti fa attivare il pettorale o i pettorali ora chiudo vado chiudo ed apro piccolissima pressione piccolissima pressione seduto a letto e ti garantisco che poi dopo nostro allenamento sentirete che avete lavorato i pettorali le braccia decolleté tutti i movimenti per iniziare la giornata perché quando noi ci svegliamo con lo sport ci siamo soddisfatti con noi stessi ricordate che c'è uno fortissimo stimolo della dopamina che un neurotrasmettatore quando compiamo un'azione positivo quando noi riusciamo avere un compimento di un esame o di una meta di un allenamento abbiamo una piccola sorta di fuoriuscita delle dopamina dice vedi che ce l'hai fatto e ti senti orgoglioso di te stesso e non apprezzo amici miei non apprezzo perché ti aiuta con autostima e ti aiuta anche con le buone abitudini perché magari perché ti sei svegliato stamattina fai questo allenamento con la gil ti bevi più acqua o magari ti mangi uno yogurt anziché un brioche per prima collezione e comincia a pensare di più verdure quanto sono importanti le verdure e magari cammini 15 minuti fai una bella camminata buona abitudine porta buona abitudine io dico pigro porta pigra la disciplina porta disciplina ancora dammi tre dammi due e dammi uno ok lascia le braccia avete sentito che si sono attivati se avete problemi con la schiena ricordate che potete anche stare seduti sul vostro a cuscina come se forse una sorta di sedia perché io c'ho una schiena che è un po delicata così mi siedo così mi aiuta con la schiena sono seduta e adesso apriamo le braccia qui e cominciamo a premere verso alto premo verso alto come se avessi una sorta di sasso un masso sopra le mie testa che voglio sollevare come atlas no quello che tiene in inglese si chiama atlas come si chiama in italiano quello quello stato dell'uomo che tiene il mondo sulle spalle noi siamo come atlas alziamo la nostra atlante atlantide non mi ricordo comunque un dio greco è un dio greco che tiene il mondo sulle spalle e noi stiamo tenendo le nostre spalle toniche come lui sollevando nostro mondo invisibile sopra di noi e poi ripeto volendo possiamo sempre aumentare il carico utilizzando bottigliette d'acqua o pesetti o un elastico mi siedo sull'elastico spingo su con con la mia elastico però quello sarà una mossa diciamo successivo lo facciamo in un altro momento ve lo prometto ma in queste prime puntate io voglio stare a letto voglio stare a un diciamo più che altro il primo muscolo che dobbiamo allenare insieme la disciplina io voglio che ogni mattina ti svegli prendi uno di questi video lo attacchi e dice ok adesso mi impegno direttamente camera letto di fare questi 15 minuti con te e avrai risultati ragazzi il corpo risponde sempre la cosa più bella di questo è che io lo so il corpo è scientificamente comprovato che anche a 95 anni se cominci ad allenarti il muscolo risponderà e perché i muscoli sono importanti relax ragazzi giù i muscoli sono importanti perché si invecchiano il muscolo si invecchia ed invecchiandosi si svuota diventa sempre più flaccida diventa sempre meno potente e così ci troviamo stanchezza nel fare le scale stanchezza di entrare uscire del del macchina per esempio o alzarci da una sedia o dal letto stesso invece con gil ti comincerai avere la disciplina che ti permetterà di riportare di fortificarvi i muscoli per avere più autonomia io lo reputo autonomia ok le braccia vanno stese questo punto cominciamo a fare mini cerchietti ok traccio nel circolino o cerchietto o cerchio con le mie mani la cosa importante qui di non innalzare le spalle le spalle rimangono basse le nostre scappole sono belle diciamo tirate giù su lungo la schiena e il collo è lungo e facciamo il nostro circoletti prima anteriormente che sto portando la mano da basso verso alto frontalmente con questo cerchio e lo facciamo ancora per otto e sette e sei e cinque quattro e tre e due fermati qua come ci fare indietro allora che cosa succede quando facciamo questi esercizi potresti sentirlo sul collo perché lo sente sul collo perché non c'è abbastanza muscoli sulle spalle a quel punto cominci a compensare diventate come il gobru di notredame in quel caso me la bassi le mani e le fai più basso il movimento perché non voglio assolutamente che attivate la zona trapezia perché quella potrebbe essere fastidioso per il collo cosa che non vogliamo continuiamo per otto continuiamo per sette e sei e cinque e quattro e tre e due relax o l'altra cosa io adoro il fatto che il braccio può essere allenato è diventato tonico ci aiuta con il muscolo dell'applauso e ci aiuta a mettere i vestiti che vogliamo anziché avere tutto con questa massa che si pensola anche per gli sportivi può succedere andiamo allenare con le braccia alleniamo le braccia possiamo usare un derma roller possiamo usare il body renew che ci aiuta con ovviamente collagene prendendo collagene per bocca con un integratore ci aiuta anche con ovviamente la tonicità della pelle e qui io ho unito le mie pollici ok stendo le braccia sopra la mia testa i gomiti rimangono lungo le orecchie e passo indietro e stendo su dipende quanto diciamo raggio articolare hai anche piccolo mi va benissimo la cosa importante è provare di toccare il soffitto con le mani e vado su e scendo uno e due entri e quattro cinque sei sette continui ed uno e due e tre e quattro e cinque e sei e sette otto continuiamo otto e in sette e in sei cinque quattro tre due frontale di nuovo otto sette sei cinque quattro tre relax porta le braccia frontale scecare le mani scecare le spalle ricupero e ricupero e recupero perché sono sempre i movimenti che possono convolgere la zona cervicale e io se hai problemi con la zona cervicale non vorrei mai darti fastidio a tal punto che comincia a infiammare o a diciamo accendere un mal di testa muscolo tensivo così riproviamo bracci vanno su sopra la testa e scendiamo e saliamo e facciamo otto sette sei cinque quattro tre due continuiamo amiche che stiamo facendo stiamo facendo una cosa positivo per nostro benessere cioè lo sport e io penso che lo sport è qualcosa che ci libera mentalmente perché comincia a sentirti forte comincia a vederti modellata comincia a vederti il corpo come l'avessi sempre voluto no tonico asciutto e cominci a dire però non è brutto questo mondo di benessere non è brutto assolutamente questo mondo di volerci bene attraverso lo sport e la disciplina la disciplina un gran signor cosa che mi piace da morire perché la disciplina ci permette di essere un successo ok se sono disciplinata nel fare la faccenda di casa la casa sarà pulita mi spiego di nuovo andiamo per otto e in sette e in sei cinque ultime quattro ultime tre ultime due e relax liberati un attimo con quella braccia stiamo facendo un gran signore lavoro e adesso andiamo a lavorare bicipiti bicipite è questa paletta che sta la parte anteriore del nostro braccio abbiamo lavorato le spalle abbiamo lavorato i pettorali abbiamo lavorato i tricipiti adesso noi portiamo le mani di fronte a noi poi la mano verso le spalle mano di fronte a noi mano fino alle spalle e se avete problemi con i gomiti o con diciamo tendiniti vari lo modifichi lo fai meno ampio ok uno e allungo due tre in quattro cinque sei occhio guarda che facciamo rimaniamo chiusi e fai pressione 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 per otto sette sei cinque quattro tre due allungo di nuovo otto e allungo per sette provi di toccare le braccia spalle le proprio le mani che toccano le spalle ovviamente dipende delle leve ma le leve delle tue braccia magari c'è un po di adipe in eccesso si bloccano ma noi siamo qui per questo perché cresceremo insieme cambieremo insieme possiamo attivare il nostro metabolismo insieme con un bel caffè verde o un integratore che ci aiuta ci possiamo aiutare con i muscoli con un amminoacidi bcaa tribulla ammino dei tutto prodotti che ci aiutano a crescere insieme poi ricordate la pelle rimaniamo chiusi e facciamo otto sette sei cinque quattro tre due datemi ancora otto otto sette sei cinque quattro tre due scendo giù andiamo due volte poi avremo finito 8 e chiudo e 7 respira aiutati con la schiena ancora quattro ancora tre ancora due e fermo qua piccolo posizione 8 7 6 5 4 3 2 ancora 8 7 6 5 4 3 ultima volta siamo pronti ultimi 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 ultimo momento di finire il nostro allenamento poi potete fare una bella doccia proseguire con la vostra giornata sapendo cosa che ce l'avete fatta grande grande soddisfazione per noi stessi quando compiamo un'azione benefica per il nostro corpo vai 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 e 8 e 7 e 6 e 5 ultimo 4 ultimo 3 ultimo 2 e stop avete lavorato le braccia oggi complimenti ogni giorno vi aspetto con nuovi allenamenti con nuove discipline con nuove idee per farvi diventare sempre più potenti perché se tu diventi più potente diventi più orgoglioso di te stesso e io divento più orgoglioso di voi perché vuol dire che avete fatto un buon lavoro pace dalla gil vi aspetto insieme al prossimo allenamento e ricordate sempre quando ci alleniamo la vita è una figata pace e alla prossima grazie grazie